Dalla Brexit all'allargamento dell'Unione ai Balcani, passando per le elezioni europee. Molti i nodi nevralgici che l'Europa deve affrontare nell'arco di circa due anni. Questi tra gli argomenti di Siamo Europa, la tre giorni dedicata alle politiche europee, che a Trento propone convegni, dibattiti e anche spettacoli teatrali. Qui in Trentino l'Europa è presente più che mai proprio per la sua attenzione, oltre che alle politiche agricole, sociali e di sviluppo territoriale, anche alle minoranze linguistiche. Noi in Trentino da questo punto di vista abbiamo grande esperienza, perché le minoranze le abbiamo e le tuteliamo, sia con le nostre norme provinciali, sia con le risorse che ci arrivano anche dall'Europa. Attenzione anche al lavoro e all'industria, con l'esame di una serie di start-up nei settori della green economy e della meccatronica, coinvolgendo anche il polo di Rovereto. In particolare in programma un approfondimento sulle elezioni europee, che si terranno esattamente tra un anno, con seminari dedicati alle scuole.